Buonasera, buonasera e ben ritrovati con Fuorigioco puntata numero 24, buonasera Claudia, ben ritrovata e anche gli ospiti che tra poco presenteremo per raccontare questo che è il primo pareggio interno del Gubbio della stagione, il primo 0-0 in assoluto della squadra di Magi e ci voleva evidentemente l'Albino Leffe dell'ex Loviso per smacchiare, questa che era una delle poche combinazioni che mancavano alla squadra rosso-blu in questa stagione un pareggio che comunque fa conservare il sesto posto al Gubbio e allora permette comunque di guardare alle prossime gare ci ne saranno due in trasferta consecutive, certamente con ottimismo già arrivano i primi messaggi, li utilizzeremo, il primo messaggio per una domanda ai nostri ospiti che andiamo con Claudia a presentare Torna a distanza di alcuni mesi ospite della nostra trasmissione, è sempre più colonna difensiva e anche autore di due gol ma l'appetito viene mangiando, Michele Rinaldi Ciao Michele, buonasera, bentornato, allora sei venuto ospite che mi sembra ancora non avessi segnato all'andata con l'Albino Leffe hai fatto due gol, quindi ti abbiamo portato bene, adesso speriamo insomma di raddoppiare quanto prima ieri come vogliamo vederlo il bicchiere? Mezzo pieno, mezzo vuoto? Assolutamente mezzo pieno, è stata una prestazione forse un pochino al di sotto delle nostre possibilità ma avevamo davanti una squadra che ti fa giocare male e di conseguenza noi quando troviamo quelle squadre che si mettono tutte dietro la linea della palla facciamo un po' fatica, quindi ieri è successo un pochino questo ma non dimentichiamo che abbiamo avuto comunque sia due clamorose occasioni per andare in vantaggio e sicuramente bicchiere mezzo pieno Bicchiere mezzo pieno e continuiamo a sondare i nostri ospiti Un collaboratore storico della nostra emittente, già conduttore di fuorigioco, oggi direttore dell'Ogubino, Ubaldo Gini Ubaldo ciao, buonasera, bentornato con noi Ieri come dal lato dei giocatori è bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto da chi la guarda diciamo in mezzo magari anche ai tifosi sugli spalti che aria tirava? Mezzo passo falso, un punto guadagnato? Ma forse un mezzo passo falso per dare continuità ai risultati che erano venuti dall'inizio del girone di ritorno in casa, in controtendenza a quello che è avvenuto nelle girone di andata Tutto sommato però si deve vedere anche che l'Albino Leffe si è chiusa molto bene una squadra molto compatta, poi ce lo confermerà anche chi l'ha vissuta per i 90 minuti di gioco e nonostante questo il Gubbio ha avuto anche un paio di occasioni ricordiamo la traversa e il quasi gol sempre su una conclusione mi sembra di Ferretti Tutto sommato è un buon pareggio anche se è chiaro che tutti vogliamo vedere il Gubbio vincere e poi magari il Gubbio aveva la testa da un'altra parte e si è accontentato del pareggio perché anche in alcune circostanze abbiamo visto il Gubbio perdere proprio in zona Cesarini oppure non ottenere quanto di buono espresso durante i 90 minuti di gioco Giacomo mi hai anticipato però volevo ancora rallegrarmi e congratularmi con te dell'ottima presentazione casalinga possiamo dirlo anche se è avvenuto ormai da qualche tempo la pubblicazione del tuo libro era doveroso fare anche questa precisazione Diciamo che lo sport c'entra poco però Lo sport non c'entra niente però come in qualità di amico ma soprattutto di Gubbino che segue da vicino anche queste sorti editoriali questa credo che sia una gran bella soddisfazione per te Sicuramente ringrazio tutti coloro che come Ballo hanno manifestato questi sentimenti e questa stima speriamo bene davvero Parleremo anche magari del libro non questa sera Tranquillizziamo i telespettatori In altre occasioni Avremo modo di fare qualche classifica editoriale delle vendite Chissà con la media inglese Tipo un professor Chiocci Continuiamo con i nostri ospiti perché ho pronta la domanda sulla rampa di lancio per il prossimo ospite È uno dei capitani storici del Gubbio degli anni 90 È oggi direttore tecnico dell'Atletico Gubbio ma anche tifoso accanito dei Rosso Blu Alessandro Nicchi Eh già Alessandro Nicchi ma insomma ti chiamiamo Pittino perché chiamiamoci per nome Sì si chiamiamoci per nome Verrebbe da dire Un tifoso ci scrive subito Forza Gubbio e grande magi vogliamo di più dice Si può volere di più da una squadra che ha fatto quello che ha fatto adesso i Gubbio? Beh vogliamo di più Tutti vogliamo di più Bisogna sempre alzarla alla sticella Bisogna sempre alzarla però direi che insomma bisogna essere più che contenti di quello che è stato fatto fino adesso E anche se diciamo la squadra ha strabiliato talmente tanto direi che no Poi tutte le domeniche ci si aspetta sempre qualcosa in più però direi che bisogna essere strafelici di quello che è stato fatto E poi ancora possiamo toglierci diverse soddisfazioni Sicuramente c'è tanta strada davanti L'ultimo ospite ma insomma è un gradito esordio a fuori gioco e quindi lo salutiamo con piacere Per gli opinionisti stasera un tifoso che da sempre segue le sorti dei Rosso Blu in casa ma anche in trasferta con il gruppo Vecchia Maniera Giuseppe Lunani Buonasera Ciao Giuseppe Allora rappresenti un gruppo del quale possiamo già svelare gli altarini fa parte di fatto anche il tuo vicino di banco Anche Alessandro Anche Alessandro Vicky e altri mattacchioni che conosciamo Tipo tuo fratello Tipo insomma qualcuno che conosca abbastanza bene Mi dai un aggettivo Giuseppe per la gara di ieri? Ma non è stata diciamo una bella gara però condizionato io penso anche da un po' di stanchezza del Gubbio che veniva la quarta gara in due settimane Come diceva Rinaldi abbiamo trovato un Albino Leffe che si è difeso bene E sono d'accordo anche con Ubaldo Sono quelle partite che poi rischi negli ultimi minuti Vediamo Maceratese, Padova, San Mettese che rischi di perdere Quindi alla fine un punto che non disdegniamo Se ogni partita persa un po' sul lip lap fosse stato uno 0-0 Adesso il Gubbio sarebbe ancora più in alto Maceratese, Padova, Ripeto e Reggiana sarebbero stati tre punti forse in più Quindi è meglio accontentarsi Tra poco lo vediamo come sarebbe stata la classifica Perché vedremo com'è la classifica Andando a vedere i risultati con la nostra Claudia I risultati della graduatoria proprio dopo la sesta di ritorno E come detta la vigilia di due trasferte di fila di Rossoblu Vediamo i risultati della ventisesima giornata Venezia-Pordenone 1-0 Ancona-Sant'Arcangelo 0-0 Bassano-Virtus-Modena 0-2 Forlì per Alpisalo 0-2 Gubbio-Albinoleffe 0-0 Mantua-Padova 0-1 Parma-San-Beneditese 4-2 Teramo-Suttirolle 0-0 Maceratese-Fano 1-1 Reggiana-Lumezzane 2-0 Ecco la classifica Allora, Venezia con 55 Parma 52 Padova 49 Reggiana 47 Pordenone 45 Gubbio 43 Bassano 40 San Benedettese-Feralpisalo 38 Albinoleffe 34 Sant'Arcangelo 32 Maceratese 31 Suttirol 29 Modena 28 Forlì 26 Ancona 24 Mantua 23 Lumezzane 22 Chiudono Teramo a 21 E Fano a 20 Sì, questa è la gradatoria Insomma, il Gubbio sta lì Sta lì con le migliori Ha comunque 11 punti sulla prima squadra fuori dai play-off Ha aumentato di un punticino la distanza da Bassano e San Benedettese Insomma, è uno 0-0 che vale molto più di quanto non dicano questo risultato ad occhiali Prima però di andare pubblicità, sigla e copertina ricordiamo con Claudia anche come raggiungerci per i vostri messaggi come ha già fatto un telespettatore Sì, potete intervenire scrivendo un sms al numero 333 16 46 678 oppure mandarci una mail all'indirizzo fuorigioco-trgmedia.it O tramite i nostri profili social e quindi la pagina Facebook di TRG Media o l'account Twitter TRG Media scrivendo l'hashtag fuorigioco-trg È davvero tutto, pubblicità, sigla e copertina E poi siamo di nuovo insieme Da Cecchini Abbigliamento sono iniziati i saldi Cecchini Abbigliamento, sconti dal 50 al 70% Il direttore Franco Pinna è lieto di accogliervi al Castello Cortevecchio Il Castello Cortevecchio, a pochi chilometri da Gubbio, immerso nel verde, in un'atmosfera da sogno, renderà indimenticabili le tue cerimonie e i tuoi banchetti Inoltre lo chef tutti i giorni propone la grande varietà della cucina Umbra rivisitata con sapiente maestria in un ambiente raffinato ed esclusivo E ricorda, Cortevecchio organizza tutte le settimane di tutto l'anno cene a tema È versatile, durabile e resistente Può assumere qualsiasi forma per costruire edifici sicuri e architettonicamente belli In grado di conferire armonia alle città e ai territori Ambienti sostenibili e intelligenti in cui abitiamo, lavoriamo e costruiamo relazioni Infrastrutture che migliorano la qualità della nostra vita Ci proteggono dalle calamità naturali e rendono più belle e organizzata la città Cemento e calcestruzzo, dopo più di 2000 anni, sono prodotti che realizzano spazi per vivere meglio Colacem Colabeton, tecnologia, innovazione e sostenibilità Tutto è iniziato quando Marco ha detto Gira a destra, conosco una scorciatoglia Tutto è partito quando mi ha detto Andiamo da me stasera Le grandi storie nascono da una piccola svolta Renault Captur e Renault Cagiar Live crossover No free auto, a febbraio è sempre aperto Darmi i sogni tranquilli, proteggendo la tua casa e i tuoi cari Affidati a B-Security di B-Elettrica Dal 1979 Tutto è sotto controllo Le cose che ami da cui non ti vorresti mai distaccare Oggi possono rimanere con te per la tua serenità e sicurezza Attraverso il tuo smartphone o tablet B-Security di B-Elettrica Progetta e installa impianti d'allarme, anti-intrusione, video-sorveglianza e video-controllo B-Security Perché la sicurezza della tua famiglia Non ha prezzo B-Security di B-Elettrica Un pari che mancava da più di un anno E ci è voluto il primo gubbio in bianco Cioè con la seconda divisa indossata per la prima volta al Barbetti Per andare a pescare anche il primo 0-0 stagionale della squadra di Magi Ad imporlo un albino Leffe che ha confermato di valere almeno una piazza playoff Anche se in fondo alla colonna sinistra della graduatoria Pari in tutto tra le due squadre nelle occasioni e anche nei montanti colti Nel primo tempo con il solito Ferretti Sfortunato nella conclusione di destro E nella ripresa per gli ospiti andati a cozzare il legno con Montella Qui la mira non ha fatto fede al più noto omonimo Il pari al Barbetti mancava dal settembre 2015 Era stato un 1-1 con la Pianese E francamente sembra un'era geologica fa Da allora la truppa di Magi ha abituato fin troppo bene Tifossi, osservatori e quant'altro Se è vero che al primo 0-0 dopo 18 mesi Qualcuno ha storto pure la bocca In classifica il punticino muove la situazione E il sesto posto resta da pannaggio del rosso-blu Visto che le immediate inseguitrici Samb e Bassano Continuano a balbettare poco male Ora il gubbio è atteso da due trasferte di fila Opportunità per recuperare quel feeling con i risultati lontano da casa Che potrebbe far ritrovare l'originale identità di questa squadra Imprevedibile e repentina nelle ripartenze Come avvenuto in molteplici occasioni Riuscendo a mettere insieme la bellezza di sei vittorie in trasferta Quanto alla tattica Il 3-5-2 sembra già solido Con i tre corazzieri difensivi Che a dispetto della geometria Già fanno quadrato davanti ad un volpe che è sicurezza In mezzo il mister ha l'imbarazzo della scelta Con l'opzione Cassiraghi Che resta la pedina tattica più versatile e strategica Potendo giustrarsi da trequartista Laterale e centrocampista puro Davanti Ferretti resta inamovibile Anche se fisicamente potrebbe aver bisogno Di tirare il fiato prima o poi E allora tiene banco l'alternanza Ferrimarini-Candellone Che potrebbe diventare il let motive delle prossime gare Ad un patto però Che non si torni a incartarsi in un nuovo referendum Snervante stile Narciso Volpe La squadra non ne ha bisogno L'ambiente men che meno Se qualcuno per qualche interesse Che non sia quello della causa rosso-blu A voglia di altri referendum Si rivolga in Cassazione Allora tanti motivi Benché siano 0-0 Insomma questa partita le offerti Tra l'altro sono già arrivati altri messaggi Da parte dei tifosi Che danno una lettura tattica Io intanto parto con Rinaldi Riparto con Rinaldi Mister 4 punti Perché con i tuoi gol Intanto sono arrivati i 4 punti Ricordiamolo la vittoria Proprio all'andata con l'Albino Leffe Il gol del 2-1 E quella rovesciata Che insomma è finita Nella top 10 del 2016 In zona Cesarini A Bolzano Però insomma è stato protagonista Michele anche di tante altre gare In cui ha fatto il suo mestiere Quello di impedire agli altri Di fare gol Ieri è sembrata Una partita molto equilibrata Molto ingessata Forse serviva l'episodio E magari è mancato quello Forse è mancata la freddezza Davanti la porta E un paio di occasioni Per capitalizzare Sono d'accordo con te Sono d'accordo anche Leggendo le dichiarazioni Anche comunque sia Il mister dell'Albino Leffe Dice Si sono annullate tatticamente Le due squadre Questo penso sia stato un po' Questo richiude un po' La partita di ieri Tutte e due le squadre Secondo me non volevano Prendere gol E volevano cercare Il guizzo Per andare in vantaggio Noi forse l'abbiamo avuta Clamorosa nel primo tempo Loro nel secondo tempo Quindi penso che Ai punti Penso sia un pareggio Giusto E' il primo Ubaldo 0-0 Di questa stagione Un Gubbio che comincia Tra virgolette In Borghesirsi O tanto prima o poi Questo risultato Doveva scappare fuori Prima o poi Statisticamente Doveva uscire fuori Dallo score del Gubbio Anche perché Ci aveva abituati Maluccio Nelle prime giornate Al girone d'andata In casa E comunque Stava diventando Una Una pareggita Era l'unica parola Che non si poteva Leggere e usare Nello spogliatoio del Gubbio Perché mi sembra Tre pareggi Fuori casa E poi è venuto Questo in casa Come sottolineavate Anche nel servizio Da tanto tempo Che mancava Però si può dire Una volta che Maggi Ricordiamolo Dopo la vittoria Lumezzani Ha detto Il Gubbio è salvo Una sorta di certificazione Adesso comincia Veramente La nostra corsa I playoff Si può dire È cominciato Un altro campionato In qualche modo E quindi anche questi 0-0 Vadano apprezzati In maniera diversa Devono essere apprezzati Perché adesso i punti Valgono davvero tanto Specialmente Per quelle squadre Che sono borderline Per la zona playoff Come lo è L'Albino Leffe Che occupa L'ultima posizione Dei playoff Per il momento Mi sembra Poi Perché anche La mentalità È molto diversa Ora giochi con più Tranquillità Puoi cercare la giocata Ieri Forse Cercando la giocata Hai visto Qualche errore Di misura Nei passaggi Nel cercarsi Quando le squadre Si sono un po' Allungate Per pochi minuti Abbiamo visto Anche che il Gubbio Era in grado Di poter Arrivare Con più tranquillità Sempre giocando Maggiormente Sulle fasce Sulla tre quarti Avversaria Quindi andando Al tiro Poi secondo me Si sono date un'occhiata Allo specchio E si sono Ricompattate Ecco che è uscito fuori Anche nel corso Del secondo tempo Il pareggio Dal ventesimo in poi Del secondo tempo La partita Non è che ha offerto Degli spunti Interessantissimi Le due squadre Si sono Forse viste In faccia Per portare Anche avanti Un pareggio Che non è facile Portare avanti Un pareggio Comunque credo che Non si giochi mai Per il pareggio Questo lo levo Dalla Dalla mia Sulla vittoria Vale tre punti Anche perché Appunto adesso Il Gubbio non ha più Niente da perdere Ha tutto da guadagnare Specialmente Nella tranquillità Sottolineare Forse anche la stanchezza Perché potrebbe essere Stato snervante Anche il bel pareggio Di Padova E rimanere in partita Fino al novantesimo I minuti di recupero In trasferta Padova sotto di un gol E cercare Comunque Di andare al pareggio Perché i minuti Tanto accorciavano La speranza Di poter fare Un risultato positivo A Padova Potrebbe essere snervante Poi c'è stata Sì la settimana Di allenamento Ma c'è una Sorta anche Di callo fisiologico Di spendio nervoso Di spendio forse nervoso Anche se Il Gubbio Lo ha dimostrato a tratti Contro Albino Leffe Non è che è stato Proprio Ingestato tutta la partita Certo Volevo chiedere Ad Alessandro Proprio questo aspetto Cioè il fatto che In qualche modo Siano cambiati Gli obiettivi Di questa stagione E questo forse Deve portare un po' Tutti a Pesare in maniera diversa I risultati Perché si corre Non più Sulla quintultima Sestultima Ma si corre Sulle 3-4 squadre dietro E le 3-4 davanti Certo Insomma I risultati si misurano Anche in maniera diversa Assolutamente Anche perché Fermo restando Che vincere è meglio Di pareggiare Quello sicuro Quello sicuro Però è chiaro è che Cioè da adesso in poi Inizia un nuovo campionato L'ha detto anche il mister stesso Quindi Cioè Bisogna anche Un attimino Andare a Capire Quanto è importante Il risultato di ieri Cioè perché magari Noi tifosi Ci metto anch'io No Cioè Vogliamo vedere sempre vincere Però Io ho giocato a calcio Quindi so delle volte Quanto è importante Dare continuità ai risultati Pareggiare anche Quando non si riesce a vincere Questo è fondamentale Anche perché Ora abbiamo tutto da guadagnare Quindi Come ha detto Ubaldo Giochiamo con Spensieratezza E tutto quanto Però Spunteggiare No Come dicevi anche te Non sta brutto Non sta mai brutto No Sicuramente In queste condizioni Invece a Giuseppe Volevo chiedere Questo Un gubbio Che ha cambiato Un pochino anche il modulo Poi ne parleremo Anche con gli altri ospiti Perché ci sono anche Un pochino di messaggi Dei tifosi Qualcuno comincia a farsi Dei punti interrogativi Però quando si cambia modulo C'è forse anche bisogno di tempo Secondo me Soprattutto In mezzo Fase difensiva Ieri ho visto Dietro Che non abbiamo quasi mai rischiato Tre colonne Rinaldi Piccini Marini Marini Tra l'altro con Burzigotti Che bussa Alla porta ovviamente Per come vi sta parte Insomma Non abbiamo mai rischiato Grande senso di sicurezza Sicuramente Ci sarà da rivedere Qualche meccanismo A centrocampo E In attacco Ecco un po' Da lavorare Forse così a occhio Sulla posizione di Casirai Che mi è sembrato Un po' Meno libero Del solito La scelta chiave Di questo Di questo gubbio Però andiamo a ricapitolare Cosa è successo ieri Di questo 0-0 Stiamo parlando Ma vediamo come è venuto fuori Vero Cla Sì vediamo Il servizio dedicato Alla partita di ieri Sentiamo Giacomo Branco Gubbio e Vinoleffe Di fronte al Barbetti Per la 26esima giornata Del girone B di Lega Pro 3-4-1-2 Confermato per Maggi Con Valagussa Al posto di Romani In mediana 3-5-2 Per Alvini Con l'ex Loviso Metronomo In regia Sesto minuto Ferretti Lavora un pallone Al limite dell'area Scarico per Casiraghi Che si sposta la sfera Verso l'interno E calcia Pallone alto Un minuto dopo Azione di forza di Agnello Full a destra Tiro cross sul primo palo Pallone full esterno Della rete Al 25esimo Corner di Loviso Basto al limite per Gonzi Conclusione radente Sul primo palo Volper spinge in tuffo 32esimo Cross dalla tre quarti Di Anastasio Gonzi controlla sul secondo palo E calcia di potenza Sfera sopra la traversa 33esimo minuto Liscio di scrosta Che regala palla A croce a 25 metri dalla porta Filtrante per Ferretti Che entra in area Calcia di destro La palla colpisce la traversa E speve fuori a campanile Poco dopo Ci prova Casiraghi Direttamente da calcio di punizione Gittata fuori misura 44esimo minuto Giorgione Slalomeggia dalla sinistra Saltando come Birilli Tre di Vanzori e Gubini Conclusione di destro Che trova la pronta risposta Con i piedi di Volpe Immediato contro i piedi Rosso-Blu Con Casiraghi Che corre in campo aperto Pescato da Piccini L'ex Ancona Con un pregevole tocco d'esterno Trova l'inserimento di Ferri Marini Conclusione di destro In piena area E da posizione favorevole Ma il numero 10 Rosso-Blu Ne inquadra lo specchio della porta Finisce reti bianchi La prima frazione E la ripresa inizia Con la binola F sugli scudi Al 49esimo Traversione di Gonzi Dalla destra Torzione era di Montella Sfera che incoccia la traversa Maggi inserisce Giacomarro per Ferri Marini Passando al 3-5-1-1 Ma il 67esimo E Giorgione A calciare dalla distanza Pallone a lato Alla destra di Volpe Al 68esimo Casiraghi Pesca Calombo sulla destra Cross basso per Valagussa Che in seconda battuta Mette dentro Ma l'arbitro ferma tutto Per posizioni irregolari Di Calombo Al 77esimo Cross di Gonzi Mastroianni spizza Verso Montella Che ostacolato da Calombo Non impatti Scivolata la sfera A due passi dalla porta 87esimo minuto Angolo di Casiraghi Torre di Piccini Sul secondo palo per Marini Acrobatica semirovesciata Che difetta però Di precisione Al 91esimo Sempre da corner Valagussa Trova Piccini Colpo di testa Ravvicinato Parato da Nordi Ma gioco fermo Per fallo in attacco E dopo 4 di recupero Arriva il fischio finale 1-0-0 Che consenta al Gubbio Di consolidare la sesta piazza Più tre dal Bassano Ora a Milino puntato Sulla trasferta di Forlì In programma sabato 25 Alle 14.30 Quindi cominciamo con ricordare Mentre scorrono alle nostre spalle Le foto di Simone Grilli Dedicate alla giornata di ieri Cominciamo a ricordarci Che la prossima gara Il Gubbio torna A giocarla di sabato Sempre alle 14.30 Ma è sabato A Forlì Dove Insomma un campo Sul quale il Gubbio Dobbiamo dire Non ha una grandissima tradizione Fortunata Ma magari un motivo buono Per poterla sfatare Michele abbiamo parlato Di queste novità Di modulo Non possiamo non chiederti Dietro Come si sta in tre Di solito si dice che No in tre Ce n'è uno di troppo Insomma Non è questo il caso Si sta bene Nel senso Nel senso Al di là del Del gol che abbiamo preso a Padova Comunque sia anche ieri Penso che non abbiamo sofferto Più di tanto Non abbiamo concesso Grosse occasioni Seppur con la traversa Comunque si era Al limite dell'area grande Un colpo di testa Esatto A lunga distanza Sono cambiati molti meccanismi Sicuramente si Da una difesa a 4 A una difesa a 3 Cambia Cambia totalmente Ed è normale Che certi movimenti Ancora non li abbiamo Assimilati per bene Eravamo Eravamo abituati A un determinato modulo In queste due partite Abbiamo cambiato qualcosina E rispetto a Padova Abbiamo concesso Qualcosina di meno E penso che sia un passettino Seppur piccolo Fatto in maniera positiva Allora Alessandro Chiedo questo Perché È proprio una domanda tattica E ci arriva da un Terespettatore Questo modulo a 3 Non mi convince Dice questo tifoso Si perde qualità in mezzo E si imbriglia Casiraghi E Ferretti Alle spalle della porta Non è la stessa cosa Torniamo al 4-3-1-2 Con le mezzali E la spinta di Calombe Zanchi Sulle fasce Quindi credo che sia Qualcuno che Ci chiamano a Coverciano Però Tu che ne pensi Sacchi Sono liberi di spingere Dice Rinaldi Col 3-5-2 In teoria Non devono difendere Gli esterni Diciamo sono Sicuramente più liberi Con questo sistema di gioco Insomma questo è Allo meno beghe Diciamo meno beghe Sicuramente Diciamo che eravamo abituati A vederli giocare così Per rispondere un attimino Alla domanda Diciamo del nostro tifoso Adesso diciamo È un cambiamento Abbastanza significativo Credo che Michele ce lo può confermare Perché prima era Un sistema di gioco Adesso è un altro Quindi Tempi di metabolismo Esatto Ci vuole un attimino Da metabolizzare Un pochino i movimenti Perché sicuramente Diciamo Questo sistema di gioco È basato anche su Il tipo di giocatori Che magari Il misto è a disposizione E come li vuole impiegare Quindi credo che Sia un po' così Un attimino farci la bocca In mezzo c'è anche Tanta scelta Giuseppe Ci sono tanti giocatori Un altro tifoso ci dice Perché non riproporre Romano Conti Giacomarro Il trio di centrocampo Con la Feral Pisa Loga ha fatto una grande partita Io penso È vero che col Senore del Poi Siamo tutti grandi allenatori Che a centrocampo Il mister proverà Un po' a ruotare A ruotare un po' Tutti i giocatori Che ha a disposizione Anche ringraziando Per fortuna Insomma numericamente Siamo aumentati A centrocampo Quindi le scelte Aumentano Poi Anche a me Farebbe piacere vedere Un giocatore come Conti Con il suo dinamismo Però mi rimetta Le scelte del mister Diciamo Penso che Vedendoli Tutta la settimana No no Sono convinto Lo diciamo Col sorriso sulle labbra Del mister Mi fido Insomma Se le scelte Che fa sono queste Penso che Vedendoli tutta la settimana Quasi più di Miagovic Più di Miagovic Sbilanciamo In questo momento Sicuramente Ci sbilanciamo Non so se Ubaldo Si fida Più di Maggio Di Allegri Nel frattempo Però Ho visto che Hanno seguito I Granata Hanno seguito molto Le partite della Juventus Con il modulo A3 Quindi L'hanno studiato bene Sono molto ferrati Adesso tanto per provocarli Nel derby Qual è il centrocampista Che invece Vedi meglio in mezzo Ti faccio litigare Con qualcuno Bardo dai Ma io Su un centrocampista Per il ruolo Che dovrebbe avere Che Chiaramente piace a tutti È un Casiraghi Dietro le punte Perché ha i numeri Perché ha fantasia Perché Ha messo un pallone D'esterno Per Ferretti Per Ferrimarini Alla conclusione Sinceramente Se ne vedono pochi Di giocatori Come Casiraghi Poi dopo Se vogliamo andare Ad analizzare Le scelte di Maggi Io credo che Le faccia adesso Anche per fortuna Perché ce li ha tutti A disposizione Per dare spazio Un po' a tutti E rifiatare Che non Non guasta Non guasta Veniamo da una stagione Abbastanza travagliata Anche meteorologicamente Con dei campi Appesantiti E qualcuno Magari risente Ad esempio un giocatore Come Ferretti Non ha mai tirato il fiato Non ha tirato mai il fiato Io credo che invece L'abbia tirato proprio Già domenica questa Con la sostituzione Se qualcuno è rimasto sorpreso Poi non è stata una sorpresa Un cambio Uno stravolgimento Non scelta tecnica Tecnica da parte Dell'allenatore Ma credo Che possa finalmente Anche rifiatare lui Sicuramente Partiamo con le interviste Claudia Che dici? Sì Sentiamo ora Alcune battute del tecnico Rosso-Blu Giuseppe Maci Grandi meriti All'Albino Leff Perché ci ha chiuso Tutti gli spazi Ha giocato un po' A toglierci Quelle che sono Le nostre qualità E lo hanno fatto bene Noi Potevamo fare meglio Però Ho visto la squadra Un pochino Meno precisa Rispetto A prestazioni precedenti Credo che le tre partite Consecutive A livello di energie nervose Un pochino Ci abbiano pesato Oggi abbiamo trovato Un avversario Tosto Un osso duro Cinque giocatori Che non rompevano mai la linea Quindi ti davano Poche possibilità Di attaccare la profondità Abbiamo fatto fatica Però Un po' le tre partite Un po' L'avversario Che oggi ci ha concesso Veramente poco Non siamo riusciti A esprimerci Come vorremmo Quello che mi è piaciuto È che la squadra Ci ha sempre comunque provato Anche sbagliando Però Grande generosità Grande voglia Di mettersi sempre La prova Un'attenzione particolare All'ex Roviso Ci suggeriva Simone Con Casiraghi Che spesso Transitava nelle zone Di Roviso Ma sì Abbiamo fatto la stessa cosa Un pochino a Padova Con Berardocco Poi dopo Berardocco è uscito Oggi si era riproposta Una situazione Tattica molto simile La differenza Tra Padova e Albinoleff Perché Albinoleff È molto più Maschia come squadra Molto più fisica E ha meno qualità Però Però è una squadra Che non ti concede Tanti spazi Oggi l'ha dimostrato E noi abbiamo fatto fatica A trovare gli spazi Abbiamo concesso Un pochino Meno qualità Rispetto al solito Però ripeto In settimana Abbiamo perso Romano Per un contrasto Giovedino Allenamento Ferretti È stato tre giorni a riposo Perché ha fatto tre partite In una settimana E anche oggi Ho preferito Risparmiargli Gli ultimi venti minuti Perché poi È un giocatore importante E credo che tre partite In una settimana E gli ultimi venti minuti Andasse a rischio Infortunio Non Ci sono state delle cosine Che non ci hanno permesso Di fare totalmente Quello che avremmo voluto Però Però Posso solo dire Bravi ai ragazzi Perché ho visto veramente L'atteggiamento giusto L'impegno E Non aver perso Come abbiamo fatto ultimamente In casa Nel primo pareggio Quest'anno Aver concesso veramente poco All'Albino Leffe È un qualcosa di importante Che dà un segnale Di maturazione Di questa squadra Attaccare sì Però Senza lasciare poi Troppi spazi Agli avversari Che ti possono anche punire Diceva prima Con Lenghi Il nostro obiettivo Adesso è difendere Il sesto posto Non mi piace molto Difenderlo Diciamo che La nostra voglia È quella di Di migliorare Più possibile La nostra posizione Adesso siamo sesti E vogliamo Comunque Mantenerla La posizione Però Non tanto difenderla Ma andarla A cercare Ecco Attraverso le prestazioni Attraverso dei risultati Abbiamo guadagnato Un punto sul Bassano Abbiamo guadagnato Un punto sulla Samerettese Le squadre che ci inseguono Però il cammino È ancora lungo Per oggi La squadra Nonostante non avesse Grande brillantezza Grande Dimostrato grande qualità Nell'ultimo passaggio Ha dimostrato Di avere Le idee chiare Ha tenuto bene il campo E questo Mi lascia ben sperare Maggi ha fatto riferimento Alla gara di Domenica scorsa Parlando di Questo movimento Di Casiraghi Che ronzava Intorno a Loviso Un po' come Aveva fatto Con Berardocco A Padova Ma proprio da Padova Il presidente Ha fatto riferimento Nel commento La vittoria De Veneti A Mantua Al Gubbio Vero Claudio In Caso a Padova Dopo la bella Prestazione di Mantua Ha parlato Il presidente Giuseppe Bergamin Abbiamo visto Come è fatto il calcio E questa domenica È successo L'opposto Della precedente Con il Gubbio Saranno tutte partite Così difficili E sofferte E a Mantua Pur peccando Tecnicamente In qualche occasione Abbiamo dimostrato Una certa superiorità Specialmente Nella ripresa E anche mercoledì Ci terremo a portare A casa il risultato Perché teniamo Anche la Coppa Italia Eh già Perché c'è Padova Venezia E quindi A proposito Di impegni serrati Queste due squadre Se la vedranno Nel classico Derby Veneto Per arrivare A superare Un ulteriore turno Di Coppa Italia Saranno tutte partite Così Michele Da qui alla fine Sul filo dell'equilibrio Beh credo Forse con le squadre Che devono salvarsi Sarà ancora più A far ricordo Credo proprio di sì Perché Già All'inizio del campionato Comunque sia Sono state sempre partite Equilibrate No E di conseguenza A maggior ragione Da questo punto in poi Fino alla fine del campionato I punti Pesano E di conseguenza Sia chi dovrà salvarsi Sia Chi ambisce un posto Nei playoff Vuole dare guerra a tutti Per cercare di portare a casa Più punti possibili Noi sicuramente Abbiamo un grosso vantaggio Che Come dicevi te I fuori onda prima Non dobbiamo più guardare Quelle Quelle al di sotto Dobbiamo guardare Quelle che ci stanno dietro E quelle che ci stanno davanti E di conseguenza Questo è un grosso Vantaggio da parte nostra Perché anche A livello mentale Abbiamo Un po' più leggero Esatto Abbiamo Una certa Tranquillità Passatemi il termine Tranquillità Tra virgolette Ma Meno pressione Sicuramente Andremo su ogni campo A cercare di dar battaglia Portare a casa Più punti possibili Perché no E migliorare la classifica Parleremo dopo Del prossimo turno Però paradossalmente Ubaldo Le prossime avversarie Che invece Devono fare i punti Per salvarsi Forlì e Macerata Potrebbero Portare il Gubbio Tornare a giocare Più Come preferisce Se vogliono fare il risultato Chiaramente devono affrontare Il Gubbio A viso aperto Quindi il Gubbio Quando ci sono gli spazi Quando può giocare Il pallone Non teme Nessun avversario Poi se dopo Abbiamo visto Dove incontrare difficoltà Le squadre che si chiudono Specialmente al Polisportivo San Biagio Pietro Barbetti Quando si chiudono Il Gubbio Veramente delle difficoltà Ma questo sta Negli schemi del calcio Sta nelle tattiche del calcio Se ti chiudi Voglio dire Non c'hai Non c'hai Iguain Purtroppo Oppure fatichi Io comunque volevo anche sottolineare Il fatto che il Gubbio Sta facendo un campionato strepitoso A prescindere dal pareggio O dal risultato che non è venuto Perché all'inizio del campionato Con tutte queste sconfitte Non si è adeguato alla categoria E comunque sempre rimane una neo promossa E quindi una di quelle matricole Che sono diventate come si diceva una volta Canonicamente terribile Sì infatti In testa è vero che c'è una neo promossa Risponderà qualcuno Ma è geneticamente modificata Perché ha speso Quanto è una squadra di B Risponde a un budget Credo molto diverso Quanto è una squadra di B Che vuole andare in serie A Praticamente il Venezia Quindi chiamarla neo promossa Fa sorridere Se vedete È solo con quella E ho la quota in zaghi Vediamo La rivediamo Scusate la classifica Mi si incartano Le sillabe Perché sì Il Gubbio deve guardarsi Dietro giustamente Da Bassano San Mellettese Che ha pari punti Con la Feralpi Salò Che è tornata a vincere Dopo il misterioso Direi cambio di Mister Asta Perché insomma Faceva benissimo E lo hanno mandato Altro ex toro Ad Alessandro Lo dico però Il Pordenone Che ha perso delle chance Clamorose Vinceva a un minuto Da fine col Parma Si è fatto rimontare Ha perso Anche col Venezia Perde 1-0 Con un gol preso Dopo due minuti I treni passano Insomma il Pordenone Che sembrava una squadra Molto solida È lì È lì ma direi Che siamo lì anche noi Insomma Quindi Se sono lì loro Cioè guardarsi Capisco perché Maggi Forse dica Mi piace poco Dire difendiamo Il sesto posto Si beh Esatto Infatti lo stavo Il Pordenone In realtà il Gubbio Ha quasi un punto in tru Perché ha pareggiato E ha vinto Quindi insomma Se arriva La partita Esatto Hai ragione Si poi anche con la Reggiana Sicuramente In casa Ce la siamo giocata Proprio Ecco Nel finale Nel finale Diciamo così Come in altre occasioni Quindi Possiamo È giusto insomma Non guardarsi solo dietro Ma penso proprio di sì Anche perché ormai Siamo mentalmente liberi E possiamo tranquillamente Guardare avanti Certamente Invece A Giuseppe Visto che prima ha detto Mi fido di Maggi Che giudizio ha Secondo te La tifoseria Di Giuseppe Maggi Secondo me Parere mio Insomma Sia da un puntista caratteriale Una persona pacata Sempre nei commenti Che trasmette sicurezza All'ambiente Poi dal punto di vista Del gioco Come sembra che Ha sempre giocato Le partite per vincerle Come dice lui Ma Tu segui da tanto il Gubbio A quale lo paragoneresti Il Gubbio di Maggi Secondo me O è meglio non fare paragoni No Paragoni no Ognuno ha le sue caratteristiche Secondo me Come allenatore Ripeto Uno che Ha sempre giocato per vincere Non si accontenta Del pareggio E Insomma Anche nell'arco del campionato Hanno visto una squadra Che ha messo sotto il Gubbio Diciamo Tranne quel blackout Del secondo tempo Col Teramo Che mi ricordo Il Gubbio non ha mai fatto Figuracce Con nessuna squadra Non è stato mai Messo sotto Da Nessuno Grazie penso A quello che ha trasmesso L'allenatore Insomma Sempre Giucare le partite E provare a vincerle Io la butto là Il Gubbio di Galderisi Pochi mesi però Che ce lo ricordiamo Sto d'accordo Ci può stare alcune Caratteristiche Come Con il Gubbio di Galderisi Si fa per chiacchierare Ma insomma Ce lo ricorda Ce lo ricordiamo bene Quel Gubbio E Andiamo a ricordarci Anche bene Anche gli amici Che contribuiscono Alla nostra trasmissione Perché Andiamo a lanciare La pausa pubblicitaria Poi avremo Un'altra notizia Con la nostra Claudia E andremo a sentire Le altre Le altre interviste Tra poco Da Cecchini Abbigliamento Sono iniziati i saldi Cecchini Abbigliamento Sconti dal 50 al 70% Il direttore Franco Pinna È lieto di accogliervi Al Castello Cortevecchio Il Castello Cortevecchio A pochi chilometri da Gubbio Immerso nel verde In un'atmosfera da sogno Renderà indimenticabili Le tue cerimonie I tuoi banchetti Inoltre Lo Chef Tutti i giorni Propone la grande varietà Della cucina Umbra Rivisitata Con sapiente maestria In un ambiente Raffinato ed esclusivo E ricorda Cortevecchio Organizza tutte le settimane Di tutto l'anno Cene a tema È versatile Durabile e resistente Può assumere qualsiasi forma Per costruire edifici sicuri E architettonicamente belli In grado di conferire armonia Alle città e ai territori Ambienti sostenibili e intelligenti In cui abitiamo, lavoriamo E costruiamo relazioni Infrastrutture Che migliorano la qualità Della nostra vita Ci proteggono dalle calamità naturali E rendono più belle Organizzata la città Cemento e calcestruzzo Dopo più di 2000 anni Sono prodotti Che realizzano spazi Per vivere meglio Colacem Colabeton Tecnologia Innovazione E sostenibilità Ed eccoci qua Prima però di andare a sentire Il tecnico degli ospiti Chiedo a Rinaldi Visto che dicevamo Delle avversarie del Gubbio C'è un attacco Che vi ha messo più in difficoltà Di altri Finora L'attacco di una squadra Un giocatore Un reparto particolare Che vi ha messo in difficoltà Perché l'impressione Che il Gubbio Sotto Non sia stato messo in figura Io credo che Come diceva Prima A parte i 20 minuti di Teramo E la partita sbagliata a Modena Noi grosse partite Non le abbiamo sbagliate A livello Dico a livello mentale A livello Di approccio alla partita Quindi Credo che comunque sia Ci sono grossi attacchi E ci sono Eppur ci sono grossi nomi Nei attacchi Per carità Ci sono delle squadre Che si sono Anche il mercato di gennaio Rafforzate Quindi Insomma Non le scopriamo di certo noi Gli attacchi della Reggiana Del Parma Del Venezia E via dicendo Però insomma A Teramo c'è un Sanzovini Esatto Ma anche lo stesso Fano Il Fano che ha preso Germinale Fioretti Melandri Filippini Insomma Sono giocatori di categoria Possono fare anche categorie Importanti E le hanno già fatte Tra le altre cose Intanto però Andiamo a sbirciare A origliare Cosa dicono gli avversari Sì Sentiamo alcune battute Del tecnico avversario Alvini Il Gubbio Secondo me L'ho già detto In presentazione A Bergamo È la squadra Che in questo momento Sta giocando Il miglior calcio Del girone Insieme Lasciando stare Le big Che hanno qualità Nei colpi Nella rosa Il Gubbio A livello di Di organizzazione Di gioco È molto forte Quindi Noi abbiamo fatto Una partita Di grande attenzione E tornare a casa Da qua Con un risultato positivo È molto Molto importante Un girone Difficilissimo Di livello Medio alto Perché le big Che sono davanti Sono forti E quindi Le partite Sono tutte Sul filo Dell'equilibrio Spesso le decidano Gli episodi Le giocate Dei giocatori È logico Chi ha nella rosa Giocatori importanti Alla fine Può vincere Più partite Però le quartiere Sono tutte Ecolibrate Ubaldo Insomma Quando un avversario Un allenatore avversario Di una squadra Che ha dieci punti in meno Ti dice Che sei la squadra Che gioca il miglior calcio Del girone Probabilmente Non è per piageria O per aumentare Il merito di questo Zero a zero Forse è anche vero Forse proprio perché Ha portato Un risultato Positivo Contro una squadra Che veramente È in forma Guardiamo gli ultimi risultati Specialmente in casa Se non vado Vinceva la quattro gare Ha vinto quattro gare Consecutive Al polisportivo San Biagio Reduce Da una Bellissima prestazione Quella Di Padova Ricordando anche Quello che è successo Il primo tempo A Padova Che insomma Il Gubbio La fatta Non da padrone L'abbiamo vista Tutti La partita Quindi penso Che un allenatore Poi Albini È molto È il magi Dell'Albinolef Perché Il pubblico Gli vuole veramente Bene E Non è che Gli le perdona tutte Proprio Ha un Buonissimo feeling Con il pubblico Quindi Non credo Che dica queste cose Giusto Perché si trovava In trasferta Per ovvi motivi Di comodità Non parole di circostanza Sono state parole di circostanza Anche perché È un uomo che Di panchina Ne ha viste tante Quindi voglio dire Non è che L'ultimo arrivato Il Gubbio gioca Il miglior calcio Il girone Dice Dice Alvini Qualche volta Il miglior calcio Non sempre corrisponde Ovviamente Alla A miglior classifica Forse perché In genere In testa classifica Ci sono le squadre Che prendono meno gol Sicuramente Equazione troppo banale Però è così La verità è questa Però comunque sia A conferma Del campionato Eccezionale Direi che Stiamo facendo Sta facendo Il Gubbio Le parole Le parole Degli addetti Ai lavori Sono d'accordo Con Ubaldo Non è che Questo l'ha detto Così perché Parlo di circostanza L'ha detto perché È vero Sicuramente Anche perché Scusa Giacomo Domenica in domenica Lo possiamo vedere Anche dalla tribuna Stampa Ci sono sempre Osservatori Cresce L'attenzione Cresce L'attenzione Non certamente Per gufare La panchina Di magi Che vengono a vedere Magari Quella posizione O proprio Per vedere Come giocano Le squadre La squadra Di magi Quindi il Gubbio Ha una buona attrattiva Non solo per La ristorazione Ma anche Credo per Godersi Delle buone partite Sì anche in settimana Tra l'altro Proprio il periodico Dedicato alla Lega Pro Ha dedicato Un'intera pagina O meglio Un intero servizio Al Gubbio Ferretti Giocatore della settimana Ma insomma Penso che lo sia stato Per diverse settimane Miglior giocatore Noi però Non andiamo a sentire Ferretti Che dici Claudio Noi sentiamo altri due Sì Sentiamo le parole Di giocatori marini E volpe Oggi è tentato La sforbiciata No? Se avessi segnato Credo che ancora Eri lì a girare Attorno al campo Sì Sì Sicuramente Ci ho provato In una palla alta Ecco era Penso forse È stato l'unico modo Per poter cercare Di colpirla Poi Ecco Ho cercato Il tiro al volo E' andato Un po' fuori Cominciano a vedere I schemi Su calcio d'angolo Il cubio Perché oggi Proprio Gavazzi Ti prendeva sempre O Zaffagnini Ti prendevano Sui calci d'angolo Ti controllavano Abbastanza in modo Regbistico Diciamo Come fai tu Qualche volta Dall'altra parte Sicuramente In area Ci si marca Ed è giusto Marcare così Poi Sia da una parte Che dall'altra Cerchiamo Di non concedere Nulla all'avversario Abbiamo provato Fino alla fine Dall'inizio partita Abbiamo cercato Di affrontare Una squadra Tosta Una squadra Arcigna Come l'Albinio Leffe Cercare di Giocare sempre Di imporci Per poter cercare Di andare in rete Non ce l'abbiamo Fatta oggi Però ecco Quello che conta Era provarci Fino alla fine Fino al 95esimo Ecco Poi Lo 0-0 ci sta L'importante È essere stati Concentrati In tante situazioni Magari A non aver concesso Ecco Tantissimo A una squadra Come l'Albinio Leffe L'importante In queste partite È farsi trovare pronti Quando serve Perché sono partite Un po' strane Dove l'avversario È chiuso E cerca di ripartire Quindi è importante Farsi sempre trovare pronti E Sono contento Anche se Potevamo Chiuderla Potevamo fare gol Però capita Sono le domeniche In cui uno riesce a segnare L'importante è Quando non vinci L'importante è non perdere A livello personale Credo siano prestazioni positive Queste Si è rientrato da poche giornate Però insomma Stai facendo molto bene Sì Io sono sempre stato tranquillo Quindi Quello che è successo Sinceramente Mi ha toccato Fino a un certo punto Poi Alla fine Parla al campo E In campo ci vado io Ci vanno i miei compagni E se non ci vado io Ci va un altro Importante è dar sempre il 100% Sia in allenamento Che fuori Quindi Sono tranquillo E sono felice Di aiutare la squadra Giuseppe Abruciapelo Ti chiedo come vedi Volpe Dopo il rientro Da titolare Un ottimo portiere Sia dallo scorso anno Ha portato molti punti Alla causa del gubbio Qualche errore Ci può stare Vista la giovane età Ma sono contento Che è veramente Ritornato tra i pali Perché per me È una sicurezza E poi Ripeto Sia lo scorso anno Sia le pareche Che ha giocato stanno Ha sempre fatto bene Voglio dire Potrebbe aver fatto bene Anche questo periodo Tra virgolette Di meditazione Ma Sono troppo provocatorio No beh Essendo un giovane Può darsi sicuramente Tanto è ormai passato il periodo No Essendo giovane L'avrà aiutato a maturare Però ripeto Per me È un patrimonio della società È un ottimo portiere Che mi dà sicurezza Via diciamo Invece stuzzico un po' Alessandro Sull'ultima parte della scheda Quando Una nostra riflessione Personalissima Si così Intravede All'orizzonte Il rischio di un altro referendum Dopo Il Volpe Narciso Ci abbiamo passato tutto l'inverno Siamo Così Sollazzati con questo Binomio Adesso Si comincia Candellone Ferrimarini Ti piace questa idea Che si ricomincia un referendum No E per chi voti Sì no Forse Può darsi Può darsi Votiamo No Dai Abbiamo capito tutti Che Sono cose Che non fanno bene All'ambiente E Innervosiscono L'ambiente Quindi Ci abbiamo Credo un allenatore Uno staff tecnico Che sa gestire le situazioni Una società Che Credo Ha dimostrato Di saperle gestire Le situazioni Senza Addentrarci poi Nei particolari Quindi Credo che Diciamo Non esiste Nessun Dualismo Nessun tipo Di situazione Anche solo Similare A quella Di Volpe Narciso Anche perché Bisogna sempre stare attenti A come dire Le provocazioni Che arrivano dall'esterno Perché c'è chi è Professionista Di queste cose Sì Io guardo Claudia Ma non è lei Insomma Io no Non mi riferisco a lei Io no Io no Si parla Del DS Lagunale Giordo Perinetti Che in settimana Aveva fatto notare Il gran numero Di rigori Avuti dai friuliani Scatelando Le ire dei neroverdi Parliamo del Pordenone Ovviamente Esattamente Prova a smussare i toni Dalle colonne del Gazzettino Concordo con il presidente Del Pordenone Lovisa Solo sul pronostico finale Perché come abbiamo sempre detto Il Parma è la grande favorita Per salire in Serie B Ma proprio per questo Essere davanti In piena rotta Per vincere il campionato È un grande onore E uno stimolo Ancora più grande Per un Venezia Prontissimo Allo sforzo finale E queste parole di Perinetti Che abbiamo avuto ospite telefonico Proprio alla vigilia Di Venezia Cubbia Aveva avuto Grandi parole di elogio Per la squadra Rosso-Blu E in particolare Per Ferretti Poi abbiamo capito perché Insomma il Venezia Ha provato a prenderselo A gennaio Ferretti Ma non c'è Non c'è riuscita E insomma Aveva stuzzicato In settimana Gli avversari E ovviamente ci sono I grandi volponi Del calcio italiano Perinetti Perinetti fa parte Di questa schiera Il suo pedigree Che insomma Nelle settimane calde Lanciano un pochino Queste stilettate Voi giocatori Ci guardate Alle pagelle Ai titoli giornali A queste frasi Che magari possono arrivare Le pagelle si però Ma si Si danno Non so per Rinaldi Se è sensibile O è un tema Che lo lasciano di fare No, lasciano il tempo Che trovano Insomma Ogni calciatore Sa Sa se ha fatto bene Sa se ha fatto male E poi penso che Il giudizio Dell'allenatore Sia Sia al massimo Quindi Anche perché insomma Non è la pagella Che fa la formazione La domenica Assolutamente no Dovrebbe Dovrebbe essere L'allenatore Prima di andare A A vederci qualche gol Prima di andare A vederci qualche gol Un'ultima battuta Con Con Ubaldo Così a brucia pelo Da qui alla fine Della Regular season Se la chiamano così Insomma Il campionato Prima dei playoff Prima dell'ottomani Cervellotici Che ci porteranno Credo al mare I playoff di quest'anno Ce li godremo In fradiso In piaggia praticamente Secondate cosa serve di più Al Gubbio? Serenità Un pizzico di incoscienza Sperimentando qualcosa di nuovo O tornare a quello Che aveva funzionato prima? Facciamo questo pizzico No Io credo soltanto La tranquillità E la concentrazione Quella che I giocatori hanno Per rispetto Di Maggi Per rispetto Della Magia Per rispetto Della propria professione Credo che La tranquillità Ce l'abbiano L'hanno dimostrata Anche Nelle situazioni Molto difficili Con risultati pesantissimi Da digerire E da controbattere Con Nella domenica successiva La serenità Ce l'hanno E si vede anche Da come si comportano In campo Qualche volta Può succedere Che cinque minuti Storti Ce li hanno tutti Speriamo che non Ci siano più Quelli di Teramo Con il Teramo In casa Perché quelli Sono state Una lezione Davvero Importante Credo Solo nella concentrazione Quello sì Perché magari Poi uno è appagato Tanto ormai Ci sono Sui playoff Invece Credo anche Che il campionato Aiuti molto Perché deve arrivare Il Parma Deve arrivare Il Venezia Si deve andare A Reggio Emilia Insomma ci sono Abbassano La penultima giornata Di campionato Ci sono insomma Delle partite Che rappresentano Di per sé Uno stimolo Specialmente Se le giochi in casa Certamente Prima Anzi no Prima Adesso ci siamo Claudia Andiamo a vedere Un po' Non sono stati tanti Questa settimana Un po' di 0 a 0 Tra cui quello del Gubbio Però qualche gol C'è stato C'è stato Sì Rivediamo 1 a 1 Tutti i gol Della giornata Che è la quarta Di ritorno In Lega Pro E il big match Tra Venezia E Pordenone L'anticipo Della 26esima giornata Giorna IB Di Lega Pro E subito Lagunari in vantaggio Falzerano Pesca Zampano Cross basso Il tacco di Moreo Respinto da Tomei Ma arriva Geico Ed è il gol partita Per il Venezia Sempre più Capolista Del girone B Questa volta Invece I minuti di recupero Sono felici Per il Padova E per Alphageme Che trova il gol partita Sul lancio di Emerson Padova Sempre terzo in classifica Vince anche il Modena Fuori ora dai play out Popescu Gran sinistro Al volo Da angolo di Basso Nel finire del primo tempo Nel fine della ripresa Ancora Basso Assistman Per il gol di Nole Che spiazza L'estremo difensore del Bassano E trova un blitz Per i canarini Davvero importante Blitz importante Anche per la Ferrapi Salò Lucchè Al 77esimo Trova il gol Del 1 a 0 Passa un minuto E Guerra Ispira Settembrini Cariva Rimorchio E timbra il raddoppio Per i Leoni del Garda Che agganciano La San Benedettese Che perde a Parma In una partita Pazzesca Marchigiani avanti Il palo di Sorrentino Il palo di Sorrentino Arriva Bernardo E trova il tapin Vincente Al 17esimo Tre minuti dopo Sorrentino Si mette in proprio Con il Mancino Fredda Frattali 2 a 0 Della Samb Ma il Parma 3 a 2 Per il Parma E ancora Munari Sfrutta la proiezione Di Scaia E sottomisura Firma la doppietta personale E una vittoria Che vale il secondo posto Ancora al Parma Tre punti dal Venezia Vince anche la Reggiana Con il Lumezzane Varas Atterrà Cesarini E lo stesso Cesarini A battere il penalty Che spiazza Pasotti Per l'1 a 0 Gigliato E al Poco dalla fine Arriva anche la Perla Da parte di Contessa Per il 2 a 0 Finale 1 a 1 Tra Maceratese E Fano Aperta da questa Bellissima Realizzazione di Gabbianelli Su questa punizione corta Ma poi Gattari Sulla rovesciata di Franchini Trova il definitivo 1 a 1 0 a 0 Per Teramo su Tirol E Ancona Sant'Arcangelo Gli abbiamo visti in sequenza I gol I pochi gol Ma insomma Ce ne sono stati comunque Delle altre gare Tra cui anche Quella del Forlì Che sarà la prossima Avversaria del Gubbio Avremo modo di parlarne Perché Insomma Un'avversaria Non bisogna guardare la classifica Ma Neanche il risultato Di ieri Perché è un'avversaria Abbastanza Tosta E che non ha neanche Claudio ha preso Molto bene Con il suo allenatore Questa sconfitta Con la Feral Pisalò Infatti dopo la sconfitta Del suo Forlì Contro il Feral Pisalò Il tecnico Dei Galletti Massimo Gadda Non fa salti di gioia Nel primo tempo Siamo stati un po' In difficoltà Però la partita Ma la partita Era sotto controllo Il secondo tempo È stato buono Siamo usciti indenni Dal rigore E abbiamo avuto Tre occasioni clamorose Questa con il Gubbio Sono le partite Peggiori Perché gli avversari Sono forti E hanno pressioni E hanno pressioni Perché sono in zona playoff E non hanno pressioni Perché sono in zona playoff Gioca una calcio Con la mente libera Gioca una calcio Con la mente libera Che è un po' Quello che dicevamo Michele Sarà Parma A Venezia Fino alla fine Secondo te? Credo proprio di sì Credo proprio di sì Hanno Col Parma Che ricordiamo Col Venezia Che è in vantaggio Negli sportivi Hanno preso un bel margine Rispetto a Insomma a quelle che Inseguono Tra Padova Reggiana Comunque sia un pochino Si sono fermate Hanno qualcosina in più Secondo me Rispetto a tutte Tutte le altre Del girone Di conseguenza Penso sia Penso sia una lotta finale Tra loro due Anche giustamente Comunque sia Blasone Tutto quanto Quindi era un po' Il pronostico Dall'inizio del campionato Diciamo che poi Il mercato di gennaio Ci ha messo il carico Il carico da undici Qual è la squadra Alessandro Che ti ha sorpreso Di più finora E che ti ha diluso Di più Fino adesso Di questo girone Se vuoi rivediamo Anche la classifica No no Sorpreso A parte il gubbio Eh direi Positiva felicemente Il gubbio Perché dai Siamo alla quarta Di ritorno Riflettevo